brock lesnar è stato rimosso dal gioco digitale wwe supercard pubblicato da 2k games stando alle voci di corridoio il sindaco di suplex city ora attualmente non dovrebbe più far parte del materiale promozionale a supporto di wwe 2k 24 che è in uscita per le principali piattaforme l'otto di marzo il tutto come potete immaginare per via delle implicazioni che lo vedono teoricamente coinvolto nella querela a sfondo sessuale depositata contro vince mcmahon e di cui abbiamo lungamente parlato nei video che ho pubblicato nei giorni scorsi si complica la vicenda vince mcmahon questo perché stando al wall street journal la procura federale di new york sarebbe in contatto da mesi con altre donne che lo hanno accusato di condotta sessuale discutibile e sapevamo che insomma c'erano che erano presenti già era arrivato alle nostre orecchie tra queste oltre alla grant che ha sporto querela ce ne sarebbero altre che hanno firmato degli accordi di riservatezza con lo stesso mcmahon accettando presumibilmente delle somme di denaro per il loro silenzio una avrebbe ricevuto da vince delle foto di nudo non richieste e sarebbe stata molestata un'altra una ex wrestler wwe sarebbe stata costretta a concedergli del sesso orale c'è poi l'ex arbitro rita chatterton che ha accusato pubblicamente vince di averla violentata e ancora la manager di una spa teoricamente aggredita a fini sessuali in un resort della california del sud e infine ecco una ex dipendente della wwe che imputa all'azienda di averla retrocessa sul lavoro dopo che aveva interrotto una relazione con john laurinitis dalle carte della fonte citata pare che il governo federale stia dunque indagando sulla vicenda già dal 2022 per accertare al meglio i possibili reati commessi e capire se ricadono sotto la sua giurisdizione